Una mattinata per lei assolutamente singolare forse rispetto a quello che fa quotidianamente. Ha incontrato dei ragazzini delle scuole medie, Mastro Giorgio Nelli, per parlare di legalità. Allora, portiamo proprio da questi ragazzini. È una fascia d'età un po' particolare. Sono capaci di recepire messaggi importanti come questo? Capaci di recepirlo? Penso sicuramente sì. Bisogna interagire con schemi e toccando tasti che possono essere sensibili per loro. È evidente che in una scuola superiore sarebbe diversa la capacità di relazionarsi e anche diverso sarebbe il taglio del dibattito che ne deriva. Però sono principi che sicuramente hanno già presenti. Temi della legalità, per esempio legati a fenomeni di bullismo, sono sempre più, purtroppo, nelle cronache oggetto anche di queste fasce di età 11, 12, 13 anni. Che cosa sta succedendo a questa nostra comunità? Credo che stia succedendo. Non sono uno studioso di fenomeni sociali, ma lo vedo quando poi la frittata è cotta, diciamo, bella che è consumata. Quando si arriva davanti al giudice penale vuol dire che forse è un po' tardi. Credo che dipenda dal fatto che c'è una disposizione mentale e non riguarda soltanto le generazioni più giovani, ma anche i genitori delle generazioni in questione, a pensare che la regola sia vissuta come una rottura di scatole e non come qualcosa che serve a garantire l'esercizio della propria libertà nel modo fisiologico, che è pur sempre, secondo quello che ci insegnano vecchi brocardi, qualche cosa che ha un senso nel momento in cui esiste anche la libertà di chi mi sta vicino e che io non devo andare a invadere. Quindi vivere la regola come una sorta di oggetto di insofferenza, perché è qualcosa che infastidisce, è il viatico per arrivare a superarla e a cercare di scorciatoie più o meno, diciamo così, illecite a seconda della fascia d'età. Dunque iniziative come quella di oggi, promosse peraltro dal Rotary Club, possono sicuramente essere d'aiuto per costruire questa coscienza anche della regola, però forse serve un lavoro di rete, di squadra? Secondo me dovrebbe servire, come in tutte le cose della vita, a una certa insistenza. Ed è chiaro che si insiste quando certi argomenti, non dico si trattano con cadenza quotidiana, ma si torna a discuterne, perché purtroppo anche la cronaca ci porta quotidianamente ad avere occasioni per tornare a discuterne. È evidente che bisogna partire dall'interno delle famiglie a far capire, se non lo si sapesse già, che la regola appunto va vissuta in quanto esiste da sempre nel nostro corsozio sociale la necessità di evitare che ci si faccia giustizia da sé. Bisogna evitare che qualcuno appunto prenda scorciatoie per prendere qualche cosa che trova più bello rispetto a quello del vicino e bisogna fare in modo che chi è preposto a controllare, a stabilire chi ha ragione e chi ha torto, meriti, se lavora come si deve, il rispetto che si deve alle sue decisioni.